Primo agosto 2024, quasi le cinque e mezza, siamo al semaforo, direzione Cassano, scassato come dice lui, per andare a prendere l'ello, e che Dio ce la mandi buona. Se solo penso a quello che saranno questi giorni, i brividi, godiamoci quest'ultimo momento di silenzio, l'alba, un bel relax, training autogeno, e andiamo a citofonare. Ragazzi, pensate, buongiorno, pronto? No. Dai, ti prego, godiamocela sta cosa. Vedi se ve lo offri. Pronto, e ti sei portato tutta sta roba, ma tu lo sai che dobbiamo viaggiare anche noi? Dove dobbiamo mettere le nostre valigie? La valigia sul letto. Il letto è quella di un lungo viaggio, guarda come sei bello con la luce dell'alba che ti illumina il melone, guarda. Il melone, ma è uscito a piangere, non è uscito a piangere. Va, bello. Terapia hai? Boh, non lo so. Beh, dai, dammi la terapia. Bello. Terapia. Sì, allargalo di più la roba, così noi veramente ce la portiamo a lungomare. A lungomare, bravo. Terapia? Ma la teniamo uguale. No, dalla a me che la mettiamo nel posto giusto. Che? Grazie. A che ora la prendi? Non lo so, pure. Dove vai? Dove ti siedi? Non è vero, puoi sedere avanti. Ti do questa notizia. No, no, devi stare avanti tu. Anna Maria sta dietro con i bambini. Tu mettiti davanti. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Fai vedere la contentezza. Fai vedere la contentezza. Ma, 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 ma. Eh, ok, ma no, ma. Ma, se è questo gaddam, vai. Sì, è questo gaddam, bu. Spiega che cosa è il gaddam. Il gaddam sono i soldi. E che cosa servono i soldi per il viaggio? Il gaddam. C'è anche la tua carta, cioè, c'è anche la tua carta. Ma, ma, ma che l'ha, ma che l'ha, ma che l'ha, ma che l'ha, ma che l'ha. Oh, oh. Vedo due Lello, oh. Due Lello. Qua. Poglio il doffino di affasso. Ciao. Per chi non si rende conto come funziona, abbiamo appena firmato il foglio che io chiamo della responsabilità, perché Lello sta uscendo, ma la responsabilità di questi sei giorni è tutto in carico a me. Quindi qualunque cosa succede, per farvi capire cosa vuol dire, dipende da me il fatto che mangi qualcosa, faccio alla terapia, vado da qualche parte. Dunque, provate a immaginare quanto è anche pesante questa situazione. Il sole si sta alzando, Lello. Qual è la prima cosa che bisogna fare, Lello? Come? Qual è la prima cosa? Ecco. Stiamo andando in macchina, cosa bisogna fare? Allacciare? Ahia, è il ceciolone! La cintura di sicurezza! È il ceciolone! Allora, colazione, la facciamo tutti insieme, andiamo a prendere la Maria e i bambini, la facciamo insieme, o la vuoi fare da solo adesso? A me che con la bambolina. La facciamo con la bambolina e i bambini? Quindi li andiamo a prendere e partiamo, ormai non si gioca più. Ragazzi, aiutatemi! Aiutatemi! So che sarà dura, ma dipende tutto da te, dal tuo comportamento. Dipende dal tuo comportamento. La risulta! Ecco, questo è veramente un segno. Lello, Gesù Cristo è Dio con noi. Eccolo qua, speriamo veramente a Gesù. Arrivati ad Adelfia, andiamo a prendere il resto della truppa, direzione Catania. Fammi un bel sorriso di felicità. Sei contento? Da 1 a 10 quanto? No, io le vado mettendo! Eh, da 1 a 10 quanto? Parecchio, parecchio. Oh, finalmente l'abbiamo detto, sei contento? Ma che le vado mettendo? Che le vai mettendo o che facciamo sto viaggio a Catania? Le vado prima, prima le metto e poi non so. Eh, vabbò, vabbò. Eccolo qua. Adelfia canneto. Che silenzio, che silenzio. Mi stai minacciando? Prendi a te la tocca, non devi fare problemi. No, sei tu. A che me la scigio legale a te. Uh! Addirittura legale? Cioè, vai legale a te e dì che ormai non ce l'ho più. Ultimi ritocchi e video che lasceremo. E siamo pronti per partire. Grazie per l'aiuto. Sei molto gentile, eh. Sei veramente molto gentile. In modo la mamette, dove dobbiamo mettere queste che tu hai messo praticamente tutta la tua roba? Ecco me. Dai, a me faccio io, dai. Ma lascia sto. Faccio io. Ecco se me me la vedo io, caro. Ma le devo sistemare io perché dobbiamo mettere anche le nostre. Vai a prendere il resto, vai a prendere il resto che mo la metto, sistemo io. Aspetta, aspetta, aspetta. Calma. Questo qua, te lo riesci a tenere davanti, te lo riesci a tenere là? Sì, sì, meglio. Ok, allora, poggialo sul sedile. Mi prendi il trolley mio per piacere? Sì. Comincio a portare, cominciando a fare le lettere d'amore. Ah sì, mi stai avvisando? Uomo mi sa, uomo avvisato. Vabbè, in questo caso marito avvisato, mezzo salvato. Ma che aspettative hai, la Sicilia, secondo te ti conosce, ti ama, ti ama, ti ama la Sicilia? Eh, poi non lo so. Staremo a vedere. Le strade, le strade a me vanno sempre venite. Qua è più che fa buono, sei buono. Ehi, non ti azzardare. Non ti azzardare, le. Ma che io mi dici non vedi che hai il dito? Non sei un chilo. Sto sempre un chilo di lì. Sto sempre un chilo di lì. Cosa fai a tenere quello là? Sempre. Beh, famiglia, siamo pronti? Sì. Pieni, siamo pronti? Sì. Beh, inizia questo lungo viaggio verso la Sicilia. Ehi, sei contento lei? Eh, più contento? Niente, però no. Che volta è contento? Mmm, vabbè. 7-5 del primo agosto 2024. Qui si fa la storia.